Spregiudicati e convinti di restare impuniti per il fatto di non essere maggiorenni hanno premeditato l'aggressione arrivando armati all'appuntamento e picchiato una vittima un ragazzo sedicenne fino al punto di provocargli con un bastone lesioni permanente al cervello e la fotografia delle due bande di minori protagoniste della rissa avvenuta a Giffoni Sei Casali lo scorso 22 aprile. Sono state oggi 11 le ordinanze di custodia di cui 9 di collocamento in comunità e 2 di permanenza in casa nei confronti di altrettanti minori la maggioranza dei quali residenti nella zona dei comuni picentini accusati di aver partecipato alla rissa. Le indagini riguardano anche dei maggiorenni per i quali è stato necessario aprire un altro filone di indagine. La maggior parte dei ragazzi coinvolti aveva tentato di fuggire ma le indagini dell'arma hanno consentito di arrivare all'identificazione dei componenti. Tutti i dettagli dell'operazione sono stati illustrati questa mattina in una conferenza stampa presso la procura del Tribunale per i minorenni di Salerno. Sì assolutamente parliamo di 11 minori di estrazione sociale assolutamente diciamo tra virgolette nella norma parliamo di ecco tranne in due casi ma parliamo degli altri ragazzi sono famiglie assolutamente per bene dove vige una totale serenità dove i genitori hanno tranquillamente un lavoro non ci sono problemi economici dove però tuttavia sono appunto nate queste questa sorta di di follia che ha coinvolto questi due gruppi di ragazzi che come è stato detto ampiamente sono andati a un appuntamento con la consapevolezza piena di avere una rissa di uno scambio di di una sorta di resa dei conti si sono organizzati con delle arbi con degli strumenti atti a offendere quindi sapevano perfettamente quello che andavano a fare anche lo stesso bastone insanguinato e spezzato che poi è stato spezzato sulla testa della di uno degli undici arrestati oggi che è anche quello che poi ha subito le lesioni ma che ovviamente era anche lui membro della rissa tra virgolette è stato portato sul posto non è stato trovato lì per caso quindi c'è stata questa forte per meditazione e poi da un punto di vista operativo abbiamo avuto no un escalation quindi una piccola stazione come giffoni segasali in un comune molto tranquillo della dell'area picentina che ha fatto bene il lavoro iniziale ha messo sui binari questa attività ha individuato subito quelli che erano i cardini della vicenda poi sono subentrati i reparti specializzati abbiamo trovato due coltelli a scatto e una pistola a scacciacani quindi diciamo a salve ma priva di tappo rosso e sono una pistola assolutamente identica in tutto e per tutto le armi in dotazione a noi forze dell'ordine quindi come ho già detto sono armi che non possono fare male perché sono ovviamente inoffensive che sono a salve ma a scopo intimidatorio e ha lo stesso effetto di un'arma tutti vera perché identica. Per il comandante dell'arma Gianluca Torombetti la conferenza stampa è stata anche occasione per lanciare un messaggio sociale al fine di spingere per la prevenzione più che per la repressione. Il messaggio sociale che deve passare è quello di una funzione preventiva di questo intervento. Come spesso detto in altre circostanze e a maggior ragione per quanto riguarda l'aspetto dei minori che sono degni di assoluta tutela da parte dell'ordinamento l'intervento di repressione è sempre un intervento di chirurgia d'urgenza che elide momentaneamente il problema perché taglia alla radice una condotta delittuosa ma l'aspetto più preeminente che oggi vorrei sottolineare è appunto il messaggio che si vuole lanciare con un'individuazione di responsabilità nei confronti di un gruppo di minori che ha visto poi lavorare l'arma dei carabinieri con l'autorità giudiziaria e che ha portato poi a chiarire la dinamica di un'aggressione particolarmente violenta che c'è stata nel comune giffoni sono stati arricati dai danni permanenti ai danni di un ragazzo e quindi anche la spregiudicatezza del branco devo dire nei confronti della condotta che hanno adottato. Un aspetto che mi ha particolarmente colpito dell'intera vicenda è che uno dei minori addirittura non aveva neanche minimo timore delle forze di polizia tant'è che quasi con un affronto ha detto aspetto che vengano tanto non ho timore. Ecco questa è una cosa a cui è importante fare riferimento perché la legge chiaramente si applica nei confronti di tutti come diceva giustamente prima l'autorità giudiziaria ci sono delle forme di maggiore tutela nei confronti dei minori perché viene accordato dall'ordinamento maggiore protezione a una fascia che comunque è debole ma l'intervento dello Stato in questa circostanza è stato tempestivo, è stato diretto, è stato necessario.